Musica Nuovo appuntamento con gli appuntamenti, quelli di Chigiana Digital raccontati dal maestro Nicola Sani a cui do il benvenuto, ben trovato ancora qui a Siena. Allora, Chigiana Digital ormai avete imparato a conoscerla, è il modo in cui la Chigiana sta accanto a tutto e tutti in questi tempi complessi che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo e che ci auguriamo siano verso una chiusura, per lo meno per la loro parte più di intensità che la pandemia ha sancito nella vita di tutti. Quello che è certo è che la musica, la grande musica dell'Accademia Chigiana non si è fermata, questo aveva promesso il maestro Sani e tutto il suo staff e questo è stato mantenuto. Allora, noi vediamo la descrizione, grazie ai miei Sostani, dell'appuntamento, quello del 18 giugno con un altro bellissimo concerto che potete eseguire gratuitamente all'interno del sito dell'Accademia Chigiana nella sezione Chigiana Digital, streaming ad altissima qualità a disposizione per i vostri smartphone, tablet, tv per avere la musica dell'Accademia Chigiana ovunque voi siete, a tenervi compagnia in una bella serata di inizio estate. Cosa andranno a ascoltare il 18 giugno, maestro? Il 18 giugno è una serata molto particolare, intanto ben trovati a tutti i telespettatori di Canale 3 Toscana e un saluto particolare alla nostra grande Virginia che ci ospita negli studi di Canale 3 e che siamo sempre molto felici di ritrovare nel nostro percorso. Dicevo un concerto particolare perché in realtà non è un concerto, è una serata tematica, è una serata a tema, una serata che ci accompagnerà con musica ma non soltanto all'interno del grande mondo letterario di Federigo Tozzi. È un lavoro che ha realizzato la Chigiana insieme ad altri partner proprio per celebrare quello che è stato uno dei delle figure, uno dei personaggi chiave della letteratura legato a Siena. Nel 2020 si è celebrato il centenario della scomparsa di Federigo Tozzi e purtroppo il Covid ha impedito a queste celebrazioni di essere come, di realizzarsi come erano state previste. Questo purtroppo è un destino che ha accomunato anche altri, lo stesso Ludwig van Beethoven il cui 250esimo anniversario della nascita è stato particolarmente spezzettato, frantumato e anche per quest'anno Dante Alighieri sta facendo molta fatica. Ma a Federigo Tozzi abbiamo voluto comunque dedicare un'attenzione particolare e quindi abbiamo deciso di produrre, di realizzare un format, un progetto speciale dedicato alla sua letteratura, alla sua opera letteraria ma all'interno di un percorso musicale. Perché Federigo Tozzi è stato molto attento alla musica, quasi sia personalmente diciamo come un'attenzione personale perché era molto interessato alla musica del suo tempo, ma i suoi versi, le sue parole, le sue novelle, le sue poesie sembravano quasi uscire dai suoni, da un mondo musicale. E noi le abbiamo volute far circondare proprio dalla musica con esecuzioni di opere coeve o di qualche anno precedente, anche del grande periodo classico, con la lettura di Angelo Romagnoli, attore che ha interpretato alcune delle pagine più suggestive di Federigo Tozzi. E per questo abbiamo chiesto a Riccardo Castellana, che probabilmente è la figura più autorevole, anzi senz'altro è la figura più autorevole per quanto riguarda la letteratura, la conoscenza e la divulgazione dell'opera di Federigo Tozzi, di introdurre questa serata con le sue parole e anche di collaborare con noi per creare questo progetto tematico. Allora, quindi un progetto tematico che come sempre della qualità e dei grandi interpreti fa le sue linee guida, per tutti i senesi è un tuffo al cuore perché Federigo Tozzi rappresenta ovviamente la grande letteratura che ha fatto di Siena la sua base, grazie ovviamente all'origine di questo grande autore, del legame fortissimo con la città di Siena e racconto anche di tanti elementi che all'interno dei suoi romanzi troviamo. Quindi è un appuntamento sentitissimo per i senesi, ma ovviamente per tutti gli amanti di questo grande autore del Novecento, raccontato in un modo inedito. Ed eseguito pianisticamente in maniera straordinaria da Guglielmo Pianigiani, quindi Guglielmo Pianigiani ci accompagna letteralmente all'interno del mondo sonoro evocato da Federigo Tozzi e Angelo Romagnoli. Ne legge i testi, ma anche da questo punto di vista con i due registi Stefano Iacoviello e Silvia Folchi abbiamo voluto attraversare per questa occasione il mondo della chigiana. E quindi Palazzo Chigi Saracini diventa lo sfondo ideale, come una sorta di palazzo del gattopardo. Esatto, una scenografia naturale. Una scenografia naturale in cui i dialoghi e la musica fluiscono liberamente in uno splendido dialogo interiore. Io credo che sia davvero un'occasione particolare perché conoscere Federigo Tozzi ma anche comprendere il mondo da lui suggerito, da lui evocato nella musica è un'esperienza all'interno dell'esperienza. Assolutamente, quindi l'appuntamento è per il 18 giugno in diretta streaming, assolutamente gratuita all'interno del sito dell'Accademia Chigiana www.accademiachigiana.org Lo ricordo ancora una volta ma ormai l'avete imparato. Sezione Chigiana Digital, gratuitamente l'offerta di musico, in questo caso di un progetto così articolato che ruota intorno alla figura del grande Federigo Tozzi. Voglio concludere, mi consenti? Sì, e poi ti faccio ancora. Voglio concludere con un invito. Sì, forse allora vedi, mi hai già preceduto nella domanda. Il maestro Sani approfitto della sua presenza qui a Siena per lanciare anche una bella notizia, ossia quello che avverrà il 25 di giugno qui a Siena, il concerto di chiusura maestro della MICAT in vertice. Poi racconteremo anche la grande estate perché ne vedremo veramente, come si suol dire, delle belle. E ne sentiremo delle belle. E ne sentiremo delle belle. Però ci tengo, approfittando della sua presenza, a fare un piccolo accenno. Ma cosa avverrà il 25 perché sarà un concerto in presenza e quindi già questa è una grande notizia. Chiudiamo, almeno quello, sì. Chiudiamo in presenza e in bellezza. Perché avremo due splendide protagoniste della musica, della grande musica classica, di cui una è un po' il portabandiera oggi dei nostri ex allievi. Si tratta della straordinaria violinista Francesca Dego, violinista italiana di cui siamo orgogliosissimi, allieva di Salvatore Accardo nei corsi dell'Accademia Chigiana e che oggi è davvero una delle protagoniste della nuova scena musicale internazionale. Francesca Dego, accompagnata al pianoforte da Francesca Leonardi, sarà con noi dal vivo il 25 giugno, finalmente di nuovo dal vivo, al Teatro dei Rozzi, alle ore 21, per il concerto conclusivo della stagione Micat in Vertice, almeno, diciamo, in zona Cesarini, come si dice, ma chiudiamo, torniamo dal vivo. 25 giugno l'appuntamento. Ovviamente tutte le informazioni che vi raccontiamo, le trovate puntuali all'interno del sito dell'Accademia Chigiana su tutti i social dell'Accademia Chigiana, quindi vi invito veramente a prendere l'abitudine di consultarlo perché potete trovare tantissime informazioni, così come vi ricordo che al di là degli appuntamenti live della serale che noi vi raccontiamo in ogni puntata, avete un'offerta di musica meravigliosa, on demand, veramente a portata di click. Maestro Sani, grazie. Grazie, Virginia. Un saluto ovviamente a tutti gli amici e lo staff dell'Accademia Chigiana, si chiude qui questa puntata, torneremo presto per raccontarvi gli ultimi due appuntamenti della stagione Chigiana Digital.